Questo Motorola One Zoom mi ha quasi fatto arrabbiare perché realizzare un prodotto del genere e posizionarlo su una fascia di prezzo di 400 euro beh non dico che sia un furto ma quasi anche perché poi alla fine le fotocamere la cosa su cui puntava di più beh ma come prima cosa ragazzi vi chiedo di sostenere questo video lasciando un bel like e naturalmente iscrivendovi anche al canale attivando poi la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi contenuti ma tornando un attimo al One Zoom chiaramente non è che sia tutto un disastro durante l'IFA di Bellino infatti tantissimi youtuber e recensori lo avevano esaltato ma erano tutte prime impressioni prime impressioni che erano buone sono state buone anche per me durante l'unboxing infatti costruttivamente parlando ci sono poche lamentele infatti bellissima la back cover satinata e anche il colore che ricorda un po' quello dei OnePlus bella poi la disposizione delle fotocamere che è sinceramente ben più bella rispetto a quello dell'iPhone 11 e qui quelli di Cupertino sinceramente devono solo imparare in ogni caso è poi bellissimo anche il logo della Motorola che si illumina anche se l'illuminazione è un po' esagerata alcune volte per esempio di notte in ricarica potrebbe dare un po' fastidio va bene, dettagli piccola chicca comunque poi le note di dito come la marcatura CE e la direttiva RAE che posta sotto ovvero dove c'è la presa USB-C che non dà fastidio e quindi lascia tutta la back cover bella libera da queste scritte che non sono esteticamente bellissime altra chicca poi è il fatto che il tasto di accensione è ziglinato e così lo si riesce a riconoscere al volo e poi anche girandolo le buone impressioni rimangono quando si va ad accendere il dispositivo e si vede così questo display che si capisce da subito essere un buonissimo OLED naturalmente full HD da 6,4 pollici la terratura infatti è ottima come è ottima la luminosità rendendolo quindi ampiamente leggibile anche in condizioni stress come sotto la luce diretta del sole i colori sono poi brillanti e la tenuta degli stessi è poi resa superlativa anche andandolo ad inclinare il problema è che iniziano i primi scricchioli all'idea di aver fatto un grosso affare quando si iniziano a notare quelle cornici che sono ben più ampie rispetto a due suoi ipotetici concorrenti come possono essere il Mi 9T Pro oppure l'S10E che ormai si trovano agli stessi prezzi soprattutto nella parte inferiore in ogni caso con questi due altri dispositivi condivide altre buonissime cose come l'NFC il jack per le cuffie e il volume dell'altoparlante che è davvero elevato anche se posto in una posizione un po' strana ovvero nella parte superiore quindi in ogni caso si tenderà a coprirlo anche quello come quelli posti sono nella parte inferiore con la mano e qui in realtà S10E fa un pochino meglio visto che ha l'audio stereo però è comunque buono in questo caso anche il lettore dell'impronte che è posizionato sotto il display estremamente veloce e preciso nella lettura e sembra tutto sommato veramente migliorare con il tempo ecco però le cose belle purtroppo finiscono qua perché già dalle prime installazioni, dalla prima configurazione, dalle prime applicazioni installate beh si nota che le prestazioni di questo One Zoom sono decisamente inferiori rispetto al Mi 9T Pro e all'S10E e non parlo di benchmark, di numeri, qui non c'entrano e tra l'altro questi benchmark posizionano sopra lo Snapdragon 710 che equipaggia il Mi 9T standard ma semplicemente qui nell'utilizzo quotidiano si notano e spesso rallentamenti una certa gommosità poi in tutte le operazioni nulla di drammatico ma totalmente fuori prezzo anche durante poi diverse sessioni di gioco o durante la visione di filmati full HD su YouTube ho notato dei riscaldamenti che sono anche importanti e insomma a livello di prestazioni dal mio punto di vista proprio non ci siamo almeno per la sua fascia di prezzo attuale e non so se manchi un po' di ottimizzazione da parte di Motorola però questo potrebbe essere visto che nell'arco di una settimana mi sono arrivati due aggiornamenti importanti che però non hanno risolto i problemi e quindi mi fa pensare che più che un processore nato male sia un'infelice gestione delle risorse da parte di Motorola che si nota anche d'altro canto dalle prestazioni della batteria perché parliamoci chiaro un processore Snapdragon della serie 600 abbinato a 4000 mAh di batteria mi fanno pensare almeno due giorni di utilizzo ed invece qui si chiude la giornata in tranquillità è vero ma punto ovvero si fanno le classiche 5-6 ore di schermo e però si arriva attorno alle 11.30 a mezzanotte con il 5-6-10% di batteria residua che sono prestazioni decisamente inferiori a quelle offerte per esempio dal Mi 9T Pro che però ha un processore ben più potente e sono poi di poco superiori a quelle offerte dall'S10e che è vero non ha sotto questo aspetto prestazioni eccezionali ma un'ergonomia totalmente invidiabile e tutto questo stona poi anche con un sistema che è praticamente stock per carità comode le gesture chiamate Moto Action come quelle per attivare la torcia con un doppio colpo oppure quelle per attivare la fotocamera con una doppia rotazione come sono comode tutto sommato quelle per navigare nel menu con una sola barretta infatti si riescono a fare praticamente tutte le operazioni si può tornare quindi alla home, all'app precedente o andare indietro con una serie di gesti ripeto molto facili ma sono dettagli che dal mio punto di vista non giustificano in alcun modo né le prestazioni del sistema né quelle della batteria e così tutte le mie speranze per tentare di salvare questo Motorola erano riposte nella fotocamera, nelle quattro fotocamere però purtroppo anche qui si è rivelato alla fine una mezza delusione infatti non è che le foto anche qui siano male di giorno e in condizioni di luce ottimale le foto sono chiaramente ottime è bella la saturazione, ottima la definizione molto buono anche il lavoro svolto dall'HDR come le macro sono effettivamente molto buone così come è molto buono l'effetto sfocatura che viene dato dalle fotocamere che lavorano tra di loro però sono condizioni dove alla fine anche altri suoi competitor come per esempio ripeto l'S10 o il Mi 9T Pro fanno chiaramente molto bene il problema salta fuori quando si va a fare foto di sera o quelle con lo zoom 3x qui le foto sono solo discrete e sembra quasi di lavorare se ne parlo dello zoom con uno zoom digitale perché evidentemente l'ottica è poco luminosa o non è ottimizzata e poi di sera invece in condizioni di scarsa luminosità si presenta rumore digitale che a volte è anche abbondante e mancano molti dettagli cioè tutto sommato alla fine una cattiva gestione della luce e qui vi ho messo appunto alcune foto di confronto con i suoi concorrenti di cui vi ho parlato prima in modo che possiate anche rendervi conto di quanto le prestazioni di questo one zoom non siano adeguate non stiamo parlando di un telefono che fa foto brutte ma sicuramente non è il top e per quanto riguarda i video si sono buoni stabilizzati ma non in modo eccezionale con la fotocamera principale con una messa a fuoco che però non è velocissima non è fulminia mentre non sono stabilizzati e sono solo in full hd invece con la fotocamera principale e quindi le prestazioni non eccezionali di questa fotocamera unita poi alle prestazioni un po' deludenti del sistema con frequenti lag e poi a una batteria anche che non è proprio tra i top e mi fanno dire che se volete uno smartphone grande con un grande display con un'ottima durata della batteria e prestazioni buone dovete andare su un Mi 9T Pro che si trova ripeto allo stesso prezzo se voi ci volete qualcosa di più ergonomico spendendo 10-20 euro in più beh a quel punto vi conviene andare sull'S10e che francamente è di un'altra categoria questo è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video naturalmente mercoledì sarà un saluto da Daniele Pintus grazie a tutti grazie a tutti